Musica Oggi voglio portare un argomento che mi sta molto a cuore Ho visto l'appello della signora Angela Quella di non ce ne covidi E io ritengo che questo appello sia molto importante E non capisco perché la signora Barbara D'Urso Si rifiuti di fare un confronto con tale signora Capire bene il motivo delle rimostranze di codesta signora Angela Sono importanti per capire perché il mondo va così Barbara, io non dimenticherò nulla di tutto ciò che ho detto ieri E lo ribadisco Vorrei sapere il motivo e il perché tu non vuoi un confronto con Angela Chianello Per quale motivo? Per quale motivo? La verità prima o poi verrà sempre a galla E io sono qua, sono qua a dire tutta quanta la verità Perché non mi fermerà niente e nessuno Niente e nessuno Io ho fatto le lacrime Adesso le farò ma di gioia Di gioia Perché è questo quello che voglio Fare vedere e sapere soprattutto la verità Con te faccia a faccia Da mamma a mamma Da mamma a mamma Hai capito? Da persone adulte Da donne Terrone Come dici tu Da donne Terrone Con le contropalle Io le dimostro di averle Me le dimostri per favore anche tu E quindi vogliamo capire Tutti quanti insieme Perché la signora Angela dice che da lei non ce ne covedi Signora Barbara D'Urso non si può rifiutare con questo confronto Quindi intervengo per dire Ma com'è possibile rifiutare un tale confronto Che potrebbe essere molto importante per la comunità Per capire il vero senso della parola Non ce ne covedi Vogliamo vederlo Barbara D'Urso non si può rifiutare Un confronto del genere Dai Vogliamo vedere il confronto Dai Angela non mollare Continua a scrivere alla signora Barbara D'Urso Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti